Buongiorno, sono Giuseppe Palumbo e intanto vorrei scusarmi con voi per non essere lì a Conversano a presentare questa gradita ospite, Elif Nursad, un'artista turca che sta facendo parlare della sua arte in tutto il mondo da noi in Italia ne ha parlato il Manifesto e Mary Claire persino, ma Oltreoceano ne ha parlato anche il New York Times presentandola come una delle artiste più interessanti della scena turca attuale. Mi scuso perché ho qualche problema di salute da sistemare e esprimo tutto il mio, come dire, l'ammarico, anche un po' l'incazzo, diciamolo chiaramente perché avrei voluto vedere dal vivo le opere di Elif che purtroppo conosco poco perché online nonostante il suo bel sito l'interesse che ha riscosso ormai, come dicevo prima, dal New York Times al Manifesto c'è tutto sommato poco, avrei voluto conoscere di più i suoi fumetti per esempio perché essendo io un fumettaro un autore di fumetti avrei voluto conoscerla di più sotto questa veste invece ho trovato moltissimi dei suoi dipinti, dei suoi murales perché Elif è un'artista multiforme e qui vorrei lanciare già una prima battuta una prima domanda ad Elif come fai a gestire questa tua multiformità? quando è che decidi di fare un fumetto e quando è che decidi di fare un murales? quando è che decidi di fare un quadro o piuttosto partecipare a un video come quello che abbiamo potuto vedere online con questo gruppo hip hop dell'area barese? quando decidi di essere una Elif e non un'altra? già sull'intervista del Manifesto hai dato qualche indicazione per esempio su quando fare i fumetti significa qualcosa e quando fare i quadri significa altro ma mi piacerebbe che tu lo dicessi alle persone che sono presenti oggi a farti compagnia lì a conversare nei suoi fumetti ho visto ricorrere spesso una supereroina una sorta di catwoman mutata noi siamo abituati dal cinema ormai più che dai fumetti americani a guardare questa nuova versione dei supereroi iper realistica 3D iper potenziata e catwoman è uno dei personaggi che la DC Comics ha ritirato fuori di recente anche in un film interessante i supereroi sono una sorta di chiave di lettura della nostra realtà quindi immagino che anche per Elif anche per te Elif sia stato questo disegnare questa donna gatto che niente a che vedere con il mondo della DC Comics e dei supereroi ecco voi che siete in sala che probabilmente qualche film di questo genere ultimamente in sala c'è un film che si intitola Suicide Squad sempre uscito dalla palestra della DC Comics beh ecco il fumetto di Elif con questo genere di supereroismo non c'entra niente ecco la sua catwoman non è una ladra non è quello che gli Stati Uniti ci propongono la sua visione di questa catwoman è quella di una sublimazione probabilmente dello spirito femminile turco e quindi anche in questo ti chiedo Elif se è una mia interpretazione sbagliata o se per te la tua donna gatto è realmente una chiave di lettura della situazione femminile turca non vorrei parlare dei fatti della Turchia di oggi poi magari se qualcuno in sala vorrà farlo è chiaramente lecito farlo però con Elif io voglio parlare da autore di fumetti da artista il che non vuol dire che le nostre scelte siano meno politiche però di sicuro non vorrei parlare dei fatti che stanno come dire offuscando la nostra vista sulla Turchia ultimamente la sua catwoman dicevo è una sorta di sublimazione lo dico da autore di un supereroe altrettanto folle come può essere il suo ho visto un paio di avventure della sua donna gatto e l'ho vista scatenarsi nelle acque del bosforo amoreggiare sott'acqua fingersi ballerina in una sorta di discoteca dove si scatena coltella è un personaggio di cui mi piacerebbe leggere e approfondire le storie ovviamente lo dico da autore di fumetti che ha fatto anche lui un supereroe in tempi ormai andati un supereroe masochista allora anche nel mio caso come credo nel tuo Elif credo che la figura del supereroe e nel tuo caso la supereroina serva veramente come punto di fuga di una di un modo di vedere il reale e allo stesso tempo penso che serva anche a scudisciare a frustare il reale a metterne in evidenza le le contraddizioni i punti dolenti in qualche maniera è stato proprio un caso che nel periodo in cui mi era stato rivolto l'invito di presentare la tua mostra Elif io ho cominciato a leggere ho finito di leggere questo libro di Edmondo De Amicis un libro di cui non conoscevo l'esistenza un diario di viaggio di Edmondo De Amicis che è uno che è uno scrittore che da noi in Italia è noto soprattutto per un libro che si intitolava Cuore e che ha costituito un punto di riferimento della lettura di generazioni intere di italiani creando anche dei discreti danni invece questo libro su Costantinopoli è una graditissima sorpresa è un diario di viaggio di Edmondo De Amicis in un paese che leggendolo tra le righe mi sembrava vicinissimo a quello di oggi è lontanissimo allo stesso tempo c'è un capitolo dedicato alle turche alle donne turche dove lui descrive la presenza di queste donne definendole sono queste sono queste dunque si dice queste avvincitrici di cuori quelle fonti di piacere quelle piccole foglie di rosa uva primaticce ruggiate del mattino e aurore vivificatrice lune splendenti di cui mille poeti ci hanno impita la testa lui era stupito di vedere perché Costantinopoli girare tantissime donne abbigliate nelle maniere più diverse impegnate nelle attività più diverse come in qualunque altra città europea lui scrive alla fine dell'ottocento ovviamente ma mi chiedo probabilmente queste contraddizioni tra queste donne come dire legate a una tradizione che cercano in qualche maniera di trovare una strada nuova come forse anche tu Elif stai facendo con la tua arte con la tua dedizione all'hip hop alla cultura alternativa all'underground se vogliamo queste le belle infelici nascoste dalle grate vigilate dagli eunuchi separate dal mondo che passano sulla terra come larve gettando un grido di voluttà e un grido di dolore vediamo cosa c'è ancora di vero in tutta questa poesia dice il mondo ed emici se poi prosegue però ecco già in questo rigo gettando un grido di voluttà e un grido di dolore mi è sembrato di vedere la tua donna gatto che miagola di voluttà ed è dotata di questi artigli di queste incrostazioni quasi sulla sua schiena che non possono far altro che graffiare e portare dolore non voglio togliervi altro tempo alla serata che sicuramente sarà molto più divertente dal vivo che da questo video un po' a distanza e vorrei quindi concludere questo mio saluto a tutti quanti voi in particolare a Elif la nostra ospite dedicandoli un piccolo regalo ed ecco eccolo qua ho disegnato la mia versione della tua donna gatto spero che ti piaccia e in in un abbraccio di voluttà e di dolore con il mio ramarro che ti presento eccolo qui eccolo qua nella versione 3D e e vi saluto tutti con un mia colio miau e vi saluto con un'altra